Sì, mio figlio ha iniziato insieme a me all'inizio del 2023, ha avuto un incidente in moto nel 2012, era un motociclista professionista, è caduto e la moto gli è atterrata addosso. Ha un sacco di vertebre rotte e ha una specie di gabbia metallica che gli tiene insieme alla schiena, usa X39 Ion quotidianamente, ha iniziato recentemente con X49, usa Ice Wave quando serve e dice a mamma quando uso i cerotti mi sento molta energia, molta chiarezza mentale e lui ha questa cosa, come si chiama, dove le gambe scalciano molto, sindrome delle gambe requiete, come? Sì, lui è paralizzato dalla vita in giù, ve l'ho detto vero, quindi lui ha questi, si scalcia praticamente, lui scalcia in maniera involontaria e quindi insomma lui usa tutti questi cerotti e lo aiuta a tenere le gambe più calme insomma, così che non scalcia così tanto, altrimenti è capace di buttarsi giù da una sedia praticamente.